Siamo alla vigilia ormai dell'evento degli eventi parlando di cultura io ringrazio l'amico dottore Assessore Pietro Tropeano, Assessore del Comune di Pordenone, grazie dottore per essere in nostra compagnia è una puntata che vuole ricordare sicuramente la storia, la cultura, le tradizioni della nostra terra ma soprattutto omaggiare l'artista Major, il Pordenone, il rinascimento del Pordenone torna nella città natale io ho voluto scegliere questo titolo per introdurre l'argomento di oggi anche perché lei poi Assessore mi confermerà domani sera grande appuntamento a partire dalle 20 e 30 al Teatro Verdi di Pordenone per diciamo così la presentazione della mostra sul Pordenone, ospite d'onore il professor Vittorio Sgarbi Sì, innanzitutto un saluto ai telespettatori, è un evento importante come lei ha detto ma più che importante è un evento epocale, lo definirei, credo che sia una delle più grandi mostre anzi sicuramente la più grande mostra che Pordenone abbia mai avuto ma non solo perché una grande mostra, questo evento assume un'importanza di tipo molto intenso ma anche perché il significato che ha questa mostra, un duplice significato innanzitutto quello di far rivivere quella che è un artista importantissimo del rinascimento italiano Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, che oltre a essere nato a Pordenone ha lavorato a Pordenone, ha fatto le sue opere a Pordenone e nella provincia di Pordenone ci sono tracce indelebili delle sue opere in tutte le chiese della nostra città in tutte le chiese della nostra provincia, come ci sono tracce indelebili delle sue opere in quella che è tutto il nord-est d'Italia, Piacenza, Cremona, Corte Maggiore, Treviso, Sussegana ma anche fino a Genova, Udine, Andiamo ad Alviano, perfino a Gallipoli c'è una chiesa dove ha affrescato il Pordenone. Questo vi fa capire l'importanza di quest'artista che probabilmente, come si suol dire direttore, nemo profeta in patria nessuno è mai profeta in patria e questa è proprio la storia del Pordenone l'abbiamo forse, fra virgolette, abbandonato un po' per tanto tempo ma io credo che sia venuto il momento, a 480 anni dalla morte di riprendere in mano quello che è un grosso personaggio che ha fatto grande la nostra città lo facciamo con cosa? Lo facciamo con una serie di eventi in cui la mostra la mostra di oltre 80 opere, non solo del Pordenone questa è la caratteristica, una delle caratteristiche che ci riporta al titolo che lei ha citato in precedenza. Il rinascimento di Pordenone vuole essere innanzitutto, vuole avere una duplice valenza, vuole parlare di rinascimento di grande rinascimento, quindi vuole parlare di tutti gli artisti che hanno fatto grande rinascimento, cominciare dal Tiziano, Parmigianino, Sebastiano del Piombo tutta la gente che ha vissuto con il Pordenone, con il Pordenone ha lavorato il Pordenone è tra questi sicuramente un'eccellenza, come dice il professor Vittorio Sgarbi, è un grande tra i grandi e probabilmente questo lo abbiamo dimenticato, lo abbiamo dimenticato come Pordenone ma lo abbiamo dimenticato anche come Italia. Se lei vede, direttore, nei libri di storia dell'arte viene citato poco il Pordenone. Purtroppo sì. E questo non ha senso, non ha senso perché il Pordenone, al pari di tutte le eccellenze del rinascimento, ha la sua identità precisa, anzi, forse, le dirò, ha ancora più identità degli altri perché il Pordenone, dalla parte sua, ha la genialità, è riuscito a scoprire, è riuscito a prevedere quello che sarebbe stato il futuro dell'opera del rinascimento. Quindi quando il professor Sgarbi parla di maniera padana o di maniera italiana si riferisce a quello che ha caratterizzato l'arte del Pordenone, cioè un nuovo modo di vederla dopo il rinascimento e questa la genialità è la grandezza di un pittore che merita, ripeto, merita quello che stiamo facendo ed è giusto che sia così. Assessore, è un lavoro sicuramente il vostro, il suo in particolare, che parte da lontano. Avete insomma sudato le proverbiali sette camicie per arrivare a un risultato di questo, di questa importanza e dobbiamo ancora, insomma, scoprire gli anedoti e le peculiarità di questa grande opera. Assolutamente. In occasione magari per cominciare a fare un po' di luce. Assolutamente sì, direttore, vedo che ha intuito esattamente come sono andate le cose. Il progetto nasce circa due anni fa, quindi ho forse anche qualcosa di più. Allora, all'inizio anche del nostro mandato, se lei lo guarda, guarda le linee guida del mandato di questa amministrazione comunale, vede che c'è proprio una grande mostra sul Pordenone. Quindi già io avevo premesso, già io avevo suggerito a Ciriani, all'amministrazione Ciriani, al sindaco, di inserire tra le linee guida del mandato una mostra che potesse far rivivere i fasti di una figura come il Pordenone. E questo naturalmente era nelle intenzioni. Il verificare il tutto era un altro passaggio importante. E devo dire che lentamente, anche con l'aiuto della regione, io allora non era l'altra amministrazione. Ho avuto per fortuna un assessore alla cultura come Gianni Torrenti che ha subito capito l'importanza di questo evento e ha dato la massima collaborazione. Ci si può parlare anche essendo di sponde diverse probabilmente la cultura non ha confini e non ha soprattutto barriere politiche di partito. E questo lo dimostra il fatto che c'è stato questo connubio importante che ci ha permesso di avviare già due anni fa la macchina del Pordenone. La regione ha subito condiviso questo progetto e ci ha detto andate avanti, ci piace. E abbiamo iniziato subito la macchina di, chiamiamolo, inizio. Chi poteva essere, quali potevano essere i curatori di questa nostra avventura, se non la professoressa Caterina Furlan, che noi conosciamo tutti e che ringrazio per la sua partecipazione, che aveva curato la grandissima mostra del 1984. Ahimè la mostra del 1984 era stata fatta, non era stata fatta a Pordenone e a Pordenone c'era solamente in San Francesco una parte dedicata ai disegni del Pordenone, quindi c'era l'allestimento solo dei segni del Pordenone e quindi diciamo che non era proprio un Pordenone che rientrava a casa sua, questo invece è un Pordenone che rientra a Pordenone da grande. Quindi le dicevo ci siamo rivolti alla Caterina Furlan che è subito accettato e ci siamo rivolti a colui che da sempre ha sostenuto l'importanza del Pordenone nella nostra provincia, nella nostra regione, ma soprattutto in Italia, il professor Vittorio Sgarbi. Il professor Vittorio Sgarbi ha accettato anche lui di buon grado, anzi si è messo subito a disposizione per questo tipo di avventura. È venuto in città più volte tra l'altro. Assolutamente sì, è venuto in città più volte, devo dire che sia la Furlan ma sia anche Vittorio Sgarbi sono dei momenti importanti di questa mostra, soprattutto dei momenti collaborativi, perché ci hanno messo, ci stanno mettendo passione, non sempre un curatore vede, direttore ci mette passione in quello che è la sua commessa, molto spesso lo interpreta come un lavoro, mentre loro ci hanno messo passione perché credono in questo progetto. Quindi vi siete trovati, avete messo i cosetti ferri in acqua, avete fatto, istituito un vero e proprio comitato scientifico, perché io mi ricordo che siete arrivati assolutamente sì, abbiamo costituito, grazie anche alla loro presenza e attorno a loro, un comitato scientifico internazionale proveniente dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Italia, un pool di studiosi, ci siamo riuniti tre volte e abbiamo praticamente dettato quelle che erano le linee guida per la scelta delle opere da mettere in mostra. Quindi attraverso questo comitato sono venuti fuori i suggerimenti per le 80 e forse qualcuna di più, siamo a 82 opere che saranno presenti in mostra, miste naturalmente tra tele, pale e disegni, che comporranno quello splendido scenario che ci darà Villa Galvani dal 25 ottobre in poi, dal 25 ottobre al 2 febbraio sarà possibile visitare la mostra quando, lo diciamo ai telespettatori perché è giusto che lo sappiano, tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle ore 19, quindi dal martedì a domenica, dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica invece sarà orario continuato dalle 10 alle 19. Un patrimonio importante e così caro assessore deve avere anche non soltanto un team esperto che lo analizza, lo elabora e sceglie accuratamente le opere, deve avere anche delle misure di sicurezza importanti. Assolutamente sì direttore, abbiamo avuto recentemente proprio, ma non solo, recentemente anche in passato ci siamo confrontati con chi ha prestato le opere perché sono i primi a richiedercele. I musei prestatori delle opere, qui stiamo parlando di Louvre, stiamo parlando di musei inglesi, stiamo parlando di musei italiani, di musei tedeschi, hanno necessità di sapere che le loro opere hanno una protezione integrale, quindi tutte le misure sono state riviste, le videosorveglianze, abbiamo anche, giustamente e correttamente, abbiamo anche una guardia armata che sorveglierà all'interno della mostra, abbiamo delle misure eccezionali in collegamento con la nostra polizia, con la nostra polizia urbana, con la nostra questura, il questore ha dato la sua disponibilità, come pure il nuovo comandante della polizia, il dottor Olivotto, ha dato la sua disponibilità e quindi abbiamo un team, è un lavoro di squadra che vuole far sì che questa mostra sia un evento, sia una grande festa e rimanga tale. Assessore, cosa rispondiamo a chi magari non ha perso l'occasione per sollevare qualche critica e qualche polemica in merito? Beh, devo dire, qui mi va a puntino, devo dire che non hanno perso occasione purtroppo, anche nelle questioni belle come queste, molto spesso non si perde l'occasione per trovare il regalo magari, il regalo non è confezionato, ti danno un regalo e tu dici ma non hai messo la giusta confezione. Il fiocchetto del colore. No, allora dico questo, nel fare un evento come questo, è un evento importantissimo, è un evento che ha richiesto tanto sacrificio, io devo ringraziare gli uffici, devo ringraziare l'ufficio cultura, devo ringraziare la dirigente dottoressa Leonardozzi, ma tutto l'ufficio cultura, devo ringraziare tutta l'amministrazione, a cominciare dal sindaco Alessandro Ciriani, agli assessori che hanno collaborato in questa meravigliosa avventura, è chiaro che una macchina così bella, così straordinaria, possa anche avere dei momenti in cui qualche errore si commette. Ma è fisiologico questo, certamente noi abbiamo cercato di dare il meglio e di fare il meglio, ma in una situazione di questo tipo noi ci aspettiamo che chiunque, parlo dell'opposizione, ma parlo anche di tutti, collaborino in questa bella festa che è la prima grande mostra del rinascimento fatta a Pordenone. Quindi le critiche, io molto spesso non ho risposto perché le ho lasciate andare come sono venute, però dico siamo solo per fare cultura e nel fare cultura vogliamo che la nostra comunità ne tragga giovamento, perché come dicevo anche nei giorni scorsi, questo è un progetto che non ha solo un obiettivo culturale, ma anche un obiettivo di crescita della nostra comunità, della nostra città. Il sentire direttore Pordenone, il sentire la parola Pordenone è citata in tutti i giornali italiani, a cominciare dal Corriere della Sera, proprio in questa... Pochi minuti fa ho assistito io alla telefonata, alla conversazione del dottor Tropero con una giornalista del Sole 24 Ore, quindi... Perfetto, sentire che la nostra città viene citata dappertutto, questa settimana c'è un bellissimo articolo, le consiglio di leggerlo, saranno 5-6 pagine dedicate alla mostra sul Pordenone, quindi di Pordenone, sul panorama che è un quotidiano, che è un settimanale nazionale, quindi voglio dire è molto bello questo, sentire parlare anche le televisioni porta cosa? Porta che un territorio ne tragga giovamento e questo è il fine ultimo, far sì che tutto rientri e la comunità, soprattutto anche la comunità non solo di Pordenone, ma di tutta la provincia, di tutta la regione, ne abbia un riscontro positivo. Ed è così poi, Assessore, che si attraggono e si attirano numerosi sponsor, perché senza di quelli ovviamente nulla è possibile. Assolutamente sì, non possiamo non tenere in considerazione che senza gli sponsor non avremmo potuto fare la mostra. Io devo ringraziare naturalmente la regione, devo ringraziare l'Airpac perché ci ha dato la parte tecnica, devo ringraziare naturalmente il comune come l'ho già fatto, ma devo ringraziare naturalmente gli sponsor, quelli che hanno fornito anche dal punto di vista diciamo la parte economica che ci ha permesso di, aggiunta a quelli che sono i finanziamenti pubblici di arrivare all'obiettivo. E tra questi non posso non citare quelli diciamo che hanno collaborato in primo piano, mi riferisco alla Camera di Commercio di Pordenone, non vorrei saltarne alcuno, ma la Camera di Commercio di Pordenone Udine, che sicuramente ci ha dato un contributo molto importante, un'industria di Pordenone che anche ha fatto la sua parte all'interno di questa mostra. E poi l'Elettrolux, una grande azienda del nostro territorio che ha voluto essere presente nell'evento del territorio, questo significa anche essere presente in città. L'ITAS Mutuo Assicurazioni, un'altra grossa compagnia di assicurazione che ha voluto essere all'interno della nostra mostra. Una banca del territorio come la Friul Ovest Banca che ha detto sì, io ci sarò e ci sono con voi all'interno della mostra. Tra una serie di appuntamenti di eventi anche a Friul Ovest. Assolutamente sì, soprattutto con i ragazzi delle scuole, ne abbiamo fatto uno proprio la scorsa settimana in sala rossa del municipio. La fondazione Friuli, non poteva non esserci la nostra fondazione Friuli all'interno della mostra. La fondazione Ado Furlan e poi naturalmente quelli che sono gli sponsor diciamo più tecnici come l'ATAP. Anche l'ATAP ci ha permesso tramite la pubblicizzazione dell'evento di essere presente nella mostra. GSM con una campagna di pubblicizzazione. Ma poi non posso che ringraziare per il loro contributo la diocesi di Pordenone. Devo ringraziare perché ci hanno dato veramente un supporto importante e ce lo continueranno a dare per l'altro grande evento che sarà Pordenone Experience. Pordenone Experience che a dicembre, nella prima settimana di dicembre, vuole continuare questo percorso di scoperta, di riscoperta del Pordenone sarà un altro evento importantissimo. Sarà una mostra multimediale dedicata alle opere del Pordenone che sono presenti nelle chiese di Pordenone e della provincia di Pordenone. Ci saranno tutte le opere presenti fotografate in alta definizione che verranno viste con l'imaging più moderno, con un imaging che va dal touchscreen fino alle immagini messe su grossissimi schermi che ci faranno vedere i minimi particolari di queste grandissime opere del Pordenone. Questa mostra sarà inaugurata verosimilmente nella prima settimana di dicembre in Galleria Bertoia, quindi un'altra galleria importante di Pordenone che entra in gioco nella riscoperta del Pordenone. Un'altra sede di mostra sarà il Museo Civico Ricchieri. Il Museo Civico di Ricchieri ha le opere del Pordenone. In questo momento stiamo riallestendo il piano del Pordenone per rendere bello, per renderlo accattivante, perché tanti visitatori verranno a vederci e anche lì ci sarà una mostra dedicata a tutti i documenti che abbiamo, dall'archivio Mantica all'archivio di Stato, a tutti gli archivi su quello che è stato il periodo del Pordenone. Quindi una riscoperta a 360 gradi di quella che è stata l'era del Pordenone. Verrebbe da dire, caro Assessore, una piccola città nel novero delle grandi, perché Pordenone è una cittadina da neanche 60 mila abitanti che si trova ad essere inserita nei contesti importanti di tutta la presentazione a Milano, quindi non dobbiamo dimenticare dei palcoscenici importanti. Ma io le volevo chiedere, al di là della mostra del Pordenone e dei grandi eventi che ci ha appena detto, com'è cambiata la città dal punto di vista culturale e attrattivo, da quando c'è lei che guida l'assessorato e da quando c'è l'amministrazione Ciriani? Ma io non voglio assolutamente darmi sicuramente meriti che non ho. Ho ereditato una città che già culturalmente era valida, una città che già culturalmente ha un mondo associativo importantissimo che ringrazio per quello che ci offre. Il mio compito è stato proprio quello di stare accanto a questo mondo associativo, di vederli al lavoro, di stilare, di stare stimolarli e io ho scoperto che ci sono delle grandissime associazioni che ci danno tanto e ci continuano a dare tanto e io voglio in questo momento lanciare proprio un appello. Continuate a lavorare così perché la città ha bisogno di voi, perché la città cresce con voi e la città culturalmente valida, una città culturalmente valida è una città che ha un futuro, ha un grande futuro e Pordenone credo lo abbia. Prima di chiudere, caro Assessore, ricordiamo il ruolino di marcia allora, si parte domani sera alle 20.30, 20.45 al Teatro Verde. Sì, dopo ci sarà l'inaugurazione ufficiale al quale sono invitati naturalmente tutti, un'inaugurazione ufficiale che sarà in Parco Galvani, ci sarà una tensostruttura fatta appositamente per l'inaugurazione ufficiale. Dopo dell'inaugurazione ufficiale, domani sarà giovedì alle ore 18, dalle ore 18 nell'attenso struttura di Parco Galvani. Dopo ci sarà la visita guidata con i curatori della mostra e dal 25 di ottobre, quindi dal giorno successivo, la mostra sarà aperta a tutti. Gli orari della mostra, come ho detto, sono nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e il venerdì e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19, orario continuato. Vi aspettiamo in mostra. Non resta ovviamente che aderire a questa iniziativa, soprattutto vedere la bellezza non soltanto di Pordenone, ma del Pordenone, il rinascimento pordenonese che ovviamente sarà aperto, come avete sentito a tutti, a partire dal 25 ottobre fino al 2 febbraio 2020. Io ringrazio l'amico dottore e assessore Pietro Tropeano, assessore del comune di Pordenone, che ha dato anima e corpo per la riuscita di questo appuntamento. Non avevamo dubbi del resto che l'assessore Tropeano ci mettesse l'impegno, ma soprattutto la volontà, la caparbietà, i risultati insomma si vedono, sono sotto gli occhi di tutti e i telespettatori insomma, non soltanto quelli, sono invitati a partecipare agli eventi che la città di Pordenone proporrà da qui ai prossimi mesi a venire. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia e ovviamente chi incomincia bene, è il caso proprio di dirlo, caro assessore, è a metà dell'opera. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Grazie.